Si è concluso ufficialmente il sesto corso ufficiale delle guardie ecozoofile di fare ambiente di Cerveteri. All'interno dell'aula consigliare, come testimoniano le immagini di Roberta Buzzonetti, si è infatti svolta la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al corso e aspiranti guardie ecozoofile prossime a prestare giuramento per entrare ufficialmente in servizio. A fare gli onori di casa è il coordinatore del gruppo, Mauro Di Stefano, che per l'occasione ha invitato a presenziare il presidente nazionale di fare ambiente, il professor Vincenzo Sepe. Le guardie ecozoofile di fare ambiente sono una presenza costante e quotidiana nel nostro territorio, ha ricordato Elena Gubetti, assessore all'ambiente del comune di Cerveteri. Svolgono un lavoro certosino, attento e prezioso per la tutela della nostra città nel contrasto all'abbandono sconsiderato di rifiuti nelle politiche dedicate agli amici animali.